nel tempo dell'avvento la priera della chiesa si arricchisce di parole stupende in un testo della messa di oggi ascoltiamo la venuta del cristo tuo figlio ci liberi dal male antico che in noi e si comporti con la sua presenza dove arriva il il signore il male arretra scompare indietreggia quante volte sentiamo le nostre giornate la nostra vita minacciata oppressa oppure invasa da tante forme di male eppure non chiodo non scaccia chiodo per vincere il male serve il bene per vincere la violenza serve la pace il perdono per vincere il male serve Dio allora preoccupati solo di una cosa che Dio sia realmente presente nella tua vita preoccupati di cercarlo veramente Dio preoccupati di seguirlo preoccupati di amarlo